Benvenuti allo Scavolini Store Pesaro. Da Scavolini Store Pesaro fino al 20 novembre raddoppiamo lo sconto su cucine, living, notte e bagni. Vi aspettiamo nel nostro showroom con spazi dedicati dove potrete visionare colori e materiali seguiti dalla consulenza di interior designer. Esperienza e professionalità vi accompagneranno nella scelta del giusto arredamento per realizzare i vostri sogni.